Pronto, siamo i rapitori di vostro figlio, preparate 2 miliardi per il riscatto, vi faremo sapere noi dove e quando consegnare il danato, non avvertite la polizia, altrimenti uccidiamo il bambino, adesso vi facciamo sentire la sua voce. Papà, papà, aiutami, vieni ma figlia, papà, papà. Facevamo i giornali da scuola, assieme ai compagnie loro in da classe, all'improvviso in quattro mascherati, ma n'ha forrato, senza i pepietà. Caglievo mentre a macchino fudevo, strillavo ma nessuno mi sentevo, mi sto attaccato intorno a un posto fritto, tengo una fenda e non posso vedere. Non, io voglio figli mir, stusprec'e nasa ti, non m'ho poti dhe fa. Non, si vujet nite figli, ma givoro ubracche, e vi bërat posini. Non, io so fatigatore, non so m'goro signore, ma dhe me posse da. E stato no shpaglio di persone, lasciate sa guaglione, non fata no so frini, pa si vitu dhe nga caso bici rill, i vronka vita mia, vene peghe dhe pietà. Non, io voglio figli mir, stusprec'e nasa ti, non m'ho poti dhe fa. Non, si vujet nite figli, ma givoro ubracche, e vi bërat posini. Non, io so fatigatore, non so m'goro signore, ma dhe me posse da. E stato no shpaglio di persone, lasciate sa guaglione, non fata no so frini. Non, io so fatigatore, non so m'goro signore, ma dhe me posse da. E stato no shpaglio di persone, lasciate sa guaglione, non fata no so frini. Ma si vitu dhe nga caso bici rill, i vronka vita mia, vene peghe dhe pietà. Ma si vitu dhe nga caso bici rill. Ma si vitu dhe nga caso bici rill. Ma si vitu dhe nga caso bici rill.